meccanico generico per cercare di accontentare i clienti soprattutto e poi gestare l'obiettore ma diciamo un po tutto tutto quello che riguarda l'automobile alla vecchia meccanica che era più meccanica di adesso e adesso più elettronica di meccanica ti nasce dentro cioè una cosa che un po come il medico che devi amare il tuo lavoro anche perché proprio ti lascia ti lascia molta soddisfazione per scoprire i trucchi del mestiere e vedere l'opera altri giovani meccanici che si sfidano al campionato dei mestieri di WorldSkills ci aspettiamo a Torino dal 21 al 23 ottobre